Quest'anno ha una presenza, come gli altri anni, d'altronde da pizzaioli da tutto il mondo. La grande novità di quest'anno è che non si premiano soltanto i pizzaioli, ma si premia quel mondo di ricercatori, di studiosi, di scienziati, che sta contribuendo alla evoluzione della pizza, all'affermazione di questa ricetta importantissima, ormai patrimonio unesco nel mondo. Quindi questa è la grande novità di quest'anno e prossimamente annunceremo anche altre novità con uno sfondo sociale molto importante. Quindi tutti attenti su questa serata del 26 novembre, che a partire dalle ore 19.30 decreterà il vincitore della quarta edizione del contest Pizza Award e tutte queste novità che si susseguiranno in una serata unica nel suo genere.